ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare remaxi dal case e oggi mi trovo in zona massimina via il debrando della giovanna 93 e ti presento un appartamento appartamento sunshine completamente ristrutturato nel 2021 e che di cui ti colpirà sicuramente al di là dello stato della ristrutturazione la luminosità che ha perché questa esposizione con un balcone peraltro anche abbastanza abitabile eccolo qui questo lato è ovest è tutto quanto aperto l'altra esposizione della casa è sud che è alla mia sinistra attualmente quindi dalla mattina alla sera c'è sempre una grande luce una buona ricircolo d'aria e peraltro qui sotto come vedete c'è un ampio parcheggio che sicuramente facilita insomma il evitare lo stress di tornare a casa e trovare posto appena si entra c'è questo soggiorno con angolo cottura che loro hanno sfruttato molto bene incassando qui la cucina lasciando il tavolo centrale per la zona pranzo e poi realizzando questo questa zona living come dicevo l'appartamento è stato completamente ristrutturato sono state realizzate tre camere da letto e due bagni oltre la zona giorno impianti sono a norma con la certificazione la classe energetica una classe e tutte le serrande sono elettriche questa è la prima stanza da letto dove c'è un letto a una piazza e mezzo un armadio attreante e una scrivania e quant'altro guardate la luce che c'è con le luci spente dentro casa tutte le stanze sono climatizzate questa è la seconda camera sempre una camera dove c'è un bel letto singolo un altro armadio attreante e la scrivania anche qui il condizionatore il primo bagno dove hanno pensato un po tutto ecco anche il gioco di luci questo è un bagno cieco ma completo di tutto un'altra risica dove c'è stato messo quest'armadio può essere fatta una scarpiera armadio a muro e poi la camera patronale una camera molto grande spaziosa come vedete sono circa 15 metri c'è la cabina armadio eccola qui con una porta scorrevole e c'è il bagno in camera questo bagno ha il lavabo la doccia e il sanitario è compreso c'è la finestra in questo a differenza dell'altro che un bagno cieco e un secondo balcone questo secondo balcone affaccia appunto a sud quindi lateralmente guardate che bella faccia tutto quanto aperto in più qui sulla sinistra vedete quella porta in alluminio c'è una piccola parte per andare due metri quadri che è un ripostiglio diciamo al piano ritorniamo nel soggiorno quindi vi faccio un piccolo repilogo secondo piano senza ascensore ottima esposizione sud ovest tanta luminosità e tanto ricircolo d'aria casa completamente ristrutturata soggiorno con angolo cottura camera da letto matrimoniale due camere singole comode e due bagni più due balconi e una veranda se la casa che pensi possa essere la tua nuova casa contattami senza problemi contattami senza problemi e anche se la casa che pensi possa essere la tua nuova casa che pensi possa essere la tua per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi e eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per né